Grazie ai curatori dell'incontro, Nicoletta Cardano e Francesco Moschini, grazie a voi tutti e tutte di essere qui. Il mio intervento altro non vuole essere che una sorta di mappa delle scelte compiute da Panza di Biumo per la sua collezione. Molte cose le sappiamo già, grazie agli interventi che mi hanno preceduto. Io mi limito quindi a fornire un quadro generale, facendo qualche considerazione circa le opzioni di Panza, con riguardo particolare all'arte statunitense. La collezione, infatti, è frutto di decisioni critiche molto consapevoli da parte del collezionista, che, come vedremo brevemente, sono il risultato di precisi atti di inclusione ed esclusione, di idee assai strutturate sull'essenza e le motivazioni delle opere raccolte. Quella del Conte Panza è una delle collezioni europee d'arte statunitense più ampie e importanti, fra quelle messe assieme tra gli anni 50 e gli anni 2000, una ricchezza e qualità paragonabili si possono trovare forse soltanto nella collezione Ludwig. Le opere della raccolta Panza, pervenute tramite vendita e donazione al Museo Contemporale di Arte di Los Angeles, al Guggenheim di New York, al Museo Hirschhorn di Washington, costituiscono nuclei poderosi di arte americana in musei americani. È un caso unico, almeno in queste proporzioni, per una collezione europea. La storia della raccolta viene divisa, l'abbiamo appena sentito, dallo stesso Panza in tre fasi, due contigue, che coprono i vent'anni fra la metà degli anni 50 e il 75, periodo in cui Panza acquisisce prima opere di due dei più importanti artisti dell'espressionismo astratto, Franz Klein e Mark Rothko, e poi, senza soluzioni di continuità, a partire dal 1959, le opere di Robert Rauschenberg, poi degli artisti pop, poi la minimal art, l'astrazione radicale, l'arte processuale, la post-minimal. 40 opere di Bruce Nauman, è stato appena ricordato, acquistate entro la metà degli anni 70. Insomma, una cosa straordinaria, una precocità e un'attenzione straordinaria. Due fasi, insomma, quelle in cui colleziona l'espressionismo astratto e quelle in cui colleziona tutto ciò che di importante viene dopo, caratterizzate da tempestività nelle scelte, attenzione alla qualità dei lavori, all'importanza degli artisti, il tutto entro una politica buggettaria rigorosa, artisti del cui rilievo si accorge per tempo, mi viene in mente ad esempio Clifford Still, sarebbe stato un esempio rarissimo, Clifford Still in Europa ce ne sono soltanto quattro, non li compra perché è troppo cari e perché Panza, tra l'altro, non si contenta di avere un solo lavoro di un artista, farò poi una breve ipotesi sul perché di questo fatto, ma acquista le opere in blocco, in folti gruppi. Dal 1975 al 1988, per motivi finanziari, la raccolta ha una battuta d'arresto e riprende poi con scelte non scontate, fuori dalle mode correnti, contro il postmoderno nelle sue versioni più smaccatamente kitsch, alla ricerca invece di un recupero della dimensione astratta e rarefatta prediletta da Panza. Le preferenze vanno a forme d'arte smaterializzate, orientate all'uso della luce, sulla linea minimalista di Flavin, ma di cui l'aspetto oggettuale è ancora meno evidente o totalmente assente, come in James Tarell, uno dei preferiti di Panza, fra gli artisti che lavorano con la luce in questo momento, assieme a Maria Nordman. Panza inoltre acquista molti artisti d'area neominimalista americana, Alan Graham, ad esempio, artisti che, come James Zelliger, sembrano recuperare dagli anni Sessanta il gusto per l'oggetto comune, giocando, come aveva fatto Clice Oldenburg, sugli scarti dimensionali. Al di là di questa riproposizione, in scala spesso alterata, di involucri di beni di consumo, correnti o griffati, nulla viene acquisito che riporti alla fenomenologia del mondo osservato, o alla ripresa delle tecniche tradizionali della pittura. Non vi è neanche alcuna predilezione per la fotografia. L'identità della collezione Panza è profondamente legata all'arte statunitense, lo si sarà capito, e gli trascorre negli Stati Uniti un periodo di molti mesi, a partire dal 1954, una specie di Grand Tour del XX secolo, nella direzione opposta a quella compiuta dagli americani dell'Ottocento. Ma Panza si interessa ad altri aspetti di questo paese, tra il 54 e il 55, non compra ancora opere d'arte americana. Comincia tre anni dopo, nel 1957, con Franz Klein, cui lavoro egli incontra sulle pagine di quella straordinaria rivista del Liri, che fu Civiltà delle Macchine, e di cui comincia ad acquistare opere da Sidney Janis. Lo compra massicciamente, lo si vede da questa fotografia. Il conte compra in blocco parecchie opere, e io ritengo che, benché gli sistemi qua dei Klein e poi di Rocco, in ambienti connotati da dimora altoborghese in questo momento, arredati con tavole, sedie e neoriannascimentali, compri in blocco, lo faccio, perché egli ama sentirsi circondato e quasi immerso nello spazio creato dalle opere. Panza, cioè, sembra percepire la qualità ambientale della pittura di grande dimensione dell'espressionismo ostratto, che va oltre il quadro oggetto. Non so più dove ho trovato scritto che un'opera di Rocco non si guarda, ma si abita. Più quadri, di Rocco, di Klein, fanno ambiente. Si staccano dalla parete e portano il riguardante, o la riguardante, a un'esperienza nelle tre dimensioni, dello spazio vissuto e perciò nel tempo. È forse il lascito maggiore che la generazione di Pollock, Klein, Rocco, Steele, Barnett Newman, altro artista, quest'ultimo che Panza molto amava e che non poté collezionare, lascia alla seguente. Assunto in una siffatta dimensione ambientale, come ha detto in un testo famoso, uno dei maggiori interpreti del passaggio di generazione, Allan Kaprow, l'arte dell'espressionismo astratto consente di fare arte con tutto quello che ci circonda nell'esperienza comune. Rende quindi possibile non solo l'happening di Kaprow, per l'appunto, ma anche l'arte di Robert Rauschenberg, nella quale Panza si imbatte nel 1959 alla seconda documenta di Kassel. Oltre a Kickback, e quest'opera qui, anche questa è una fotografia d'epoca, e qui la vedete come fu installata la seconda documenta di Kassel, Panza acquista, oltre a questo lavoro, che è il primo, ed è un acquisto tempestivo di quell'anno, negli anni successivi altri dieci combine dell'artista, uno più importante dell'altro. Uno dei due factum, questo il primo, factum primo e factum secondo, che sono una coppia di quadri in cui l'artista, replicando la composizione, vuole dimostrare che il gesto pittorico, considerato dalla precedente generazione irrepetibile e indissolubilmente legato all'Ick et Nunc, del rapporto immediato con la tela, era in realtà riproducibilissimo e la flagranza dell'autore poteva benissimo essere simulata. È il gioco di critica dell'espressionismo astratto che Rauschenberg conduce a partire dalla cancellazione del disegno di De Kooning nel 1953 lungo l'intero arco degli anni 50. Fa parte della collezione Panza anche uno dei combine più struggenti di Rauschenberg, il senza titolo del 1954, uno dei primissimi, vicino al prototipo di questo gruppo dei lavori, quello che servì come scenografia per il balletto Minuscei di Maers Cunningham del 1954. Il senza titolo Panza è intriso di significati legati all'identità personale e artistica di un ventinovenne in cerca di se stesso che si raffigura come un elegantissimo narciso sul punto di scivolare nell'acqua con a fianco una gallina faraona impagliata, un pennuto incapace di volare. In questo gruppo di combine, imprescindibili per una conoscenza del lavoro di Rauschenberg, il senza titolo del 1954, rappresenta la tipologia nella quale, come disse il grande amico di Rauschenberg in quel momento, Jasper Jones, e cito, la pittura fa il verso alla scultura, rende cioè manifesta una presa letterale dello spazio tridimensionale da parte dell'opera. In continuità diretta con questa opzione sta il gruppo di lavori di Clive Soldenburg che Panza compra nel 1962 alla Green Gallery di Dick Bellamy parte di una celebre opera ambientale dell'artista The Store allestita nel 1961 in un negozio di downtown Manhattan dove aveva stabilito il suo studio e poche settimane dopo, agli inizi del 1962, riallestita alla Green Gallery, appunto. Si tratta di buffi oggetti fatti di carte di giornale intrise di Vinaville allestita poi su un'armatura di rete metallica, imitazioni divertenti, goffe e bitorzolute di oggetti reali legati al consumo, ci sono cioccolatini, hamburger, una tavola apparecchiata, fuori scala, bruti, brutte come appaiono le cose nei lavori di Jean Dubuffet, fonte prediletta di questa prima fase di Oldenburg. Anche in questo caso Panza acquista in blocco opere che per essere esperite richiedono di essere installate in uno spazio reale attraversato dalla presenza viva del o della riguardante. Se l'interazione con l'immagine legata alla cultura del consumo fa sì che negli anni successivi la collezione Panza si arricchisca di opere precoce e importanti di Jim Rosenquist e di Roy Lichtenstein, più decivisiva sul volto della raccolta, a me sembra, è l'acquisizione massiccia di opere minimaliste Morris, Andre, Donald Jardin, Flavin, dotate della dimensione ambientale prediletta da Panza. Egli è convinto che il minimalismo costituisca un punto di arrivo estremo della strazione novecentesca, il che porta le opere su un piano rarefatto e quasi neoplatonico vicino a quello dove si muove la strazione radicale di Julia Mangold, Robert Ryman o Bryce Martin, anch'essi rappresentati massicciamente con opere di grande qualità nella collezione, di cui forse sentiremo qualcosa dopo nell'intervento sul monocromo. Secondo Panza, il minimalismo reca in sé un'idea molto astratta ed elevata della forma e costituirebbe quindi il fine e la fine del modernismo e non viceversa all'inizio, come volevano invece gli artisti buona parte della critica favorevole o contraria di una commistione fra lo spazio della vita e lo spazio dell'arte in cui l'opera non consiste tanto nell'oggetto quanto fenomenologicamente nell'esperienza temporalizzata che il o la riguardante hanno assieme delle forme e dello spazio dove esse sono contenute in linea ad esempio con le esperienze di Rauschenberg e di Oldenburg che abbiamo appena viste. Al di là delle controversie sulla generalogia artistica del minimalismo e sui rapporti di esso di affinità o di opposizione con il modernismo conta ai fini di quanto ci stiamo dicendo la dimensione installativa dei lavori. L'opera minimalista propone infatti un'esperienza ambientale complessiva e non limitata alla contemplazione di singoli oggetti nello spazio. Le sale della collezione si modificano un ruolo sempre di maggior rilievo giocano le installazioni la dinamica fra l'oggetto artistico e il dove esso è situato è affrontata in maniera sempre più consapevole. Una concretezza nel rapporto fra riguardante opere che caratterizza anche i lavori concettuali della raccolta dove sono presenti massicciamente opere di Cossuth ad esempio di Lorenz Wiener e a Forziori si ripropone nel folto e importante gruppo di opere post-minimaliste e concettuali. In uno dei testi classici di critica d'arte del periodo a sottolineare la qualità di esperienza vissuta richiesta dall'arte americana degli anni 60 e 70 viene evocato un episodio della vita del dottor Johnson quando egli per dimostrare la sua contrarietà all'idealismo di Berkeley dà un calcio a una pietra ed esclama io la rifiuto così. Anche gli artisti post-minimalisti contro l'alto grado di generalizzazione proposto dall'esperienza spaziale e temporale del minimalismo sottolineano alcuni aspetti specifici dell'esperienza corporea che gli esseri umani hanno del mondo. Richard Serra lavora sui limiti dello spazio reale sulla forza e gravità Bruce Nauman inserisce elementi distonici e di inciampo nella percezione ordinaria come il Green Light Corridor opera panza del 70 oggi al Guggenheim di New York in cui il pubblico è chiamato all'esperienza claustrofobica di percorrere un tragitto in un corridoio strettissimo illuminato di neon verde questo verde acido gli ambienti smaterializzati e intrisi di luce al neon di Dan Flavin vengono riproposti da Nauman in una chiave costretta spiacevole e perturbante quando dopo il 1988 Panza riprende a collezionare opere d'arte lo fa nella direzione che sembra alla fine dei conti quella a lui più gradita la smaterializzazione dell'opera nella luce con opere di Tarrell di Maria Norman di altri artisti californiani che lavorano appunto con questo mezzo con la luce molto neominimalismo di cui Panza è uno dei massimi collezionisti al mondo a guisa di conclusione di queste mie brevissime note si può forse dire che il lascito maggiore dell'arte americana sul gusto di Giuseppe Panza consista nella scoperta di una dimensione totalizzante dell'esperienza artistica di un'arte cioè dotata di una dimensione prima potenzialmente poi sempre più concretamente coinvolgente e in questo senso immersiva è uno degli aspetti decisivi che nelle tante variazioni e differenze tengono assieme l'arte statunitense della seconda metà del ventesimo secolo e implica la proposta al o alla riguardante in primo luogo al collezionista in quanto primo riguardante o secondo riguardante dopo l'artista di questi lavori di un'esperienza che Panza considera speciale sottratta a quella ordinaria ricca di una qualità spirituale consona alla sua intensa religiosità grazie 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 mille anche questo è un intervento che ci apre altre altre prospettive rispetto alla lettura della collezione e adesso Riccardo Venturi l'icona infinita Panza e il monocromo come idea Riccardo Venturi sappiamo che è un ricercatore dell'istituto nazionale di storia dell'arte a Parigi lo conosciamo per gli articoli su doppio zero e quindi sentiamo adesso il suo contributo grazie a tutti